Benvenuti alla presentazione a cura dell'associazione Iabasta di Bessè del volume Orso scritti dalla Siria del Nord-Est. Oltre che a ringraziare voi che siete qui in presenza siamo anche in diretta su Radio Sherwood. Come Iabasta di Bessè nel corso di questo Sherwood Festival abbiamo deciso di portare alcuni momenti di approfondimento su tre aree tematiche che sono profondamente diverse tra di loro ma che hanno una cosa in comune ovvero sono dei territori resistenti. Siamo partiti parlando dell'autonomia zapatista e di quanto abbia contaminato il nostro agire politico, il nostro modo di pensare negli scorsi decenni e quanto ci contaminerà l'arrivo della delegazione in Europa in quest'estate. Poi siamo andati in Palestina attraverso lo sguardo di tre ragazzi di seconda generazione che ci hanno dato un punto di vista e delle chiavi di lettura nuove per leggere il conflitto israelo-palestinese in seguito all'ultima aggressione a Gaza e i fatti di Gerusalemme. Ci hanno dato questo punto di vista molto importante con delle chiavi di lettura nuove che non sono eurocentriche e del tutto orientalistiche, facendoci capire che la questione palestinese può essere vista e interpretata ma dobbiamo ascoltare in primis i palestinesi non i tifosi della nostra parte del mondo. Abbiamo deciso quindi di finire questo tour dei territori resistenti parlando appunto del Rojava. Lo facciamo con un'estrana umiltà e con la consapevolezza di non essere stati costanti negli ultimi anni per quanto riguarda la questione del Rojava e del Kurdistan, ma abbiamo la certezza che lo abbiamo fatto con umiltà e non facendolo appunto da tifosi. Nel 2015, a pochi mesi dalla liberazione della città di Kobane, ospitavamo su questo palco molto più grande di quello di adesso, di ritorno poi da quella fantastica esperienza che fu la staffetta su Rojava, ospitavamo Nasrin Abdallah, comandante di Epeje e Inver Muslim, cosindaco di Kobane. Salendo su quel palco, quel giorno si sancì un patto di amicizia e fratellanza tra la nostra comunità, quella degli abbastri dei centri sociali e la rivoluzione del Rojava. Quel patto non è mai stato rotto e ancora continua a esserci. Va anche detto che è innegabile che quello che ci succede intorno tutti i giorni cambi il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, le nostre parole chiave, le parole d'ordine. Forse con un termine giovane, visto che ci sono tanti giovani in platea, va detto che la rivoluzione del Rojava ha perso forse quell'hype, quella pil che ha avuto qualche anno fa. È vero anche che altri movimenti sono esplosi letteralmente, soprattutto nell'ultimo anno, oltreoceano, da nord a sud e ci insegnano nuovi modi di interpretare la lotta, di come usare i nostri corpi nella lotta. E per questo però assolutamente non ci dobbiamo dimenticare che quello che è successo in Rojava negli ultimi cinque anni, negli ultimi sei anni, è un vero e proprio processo rivoluzionario. E come ha detto più volte Davide Grasso, è l'unica rivoluzione che stiamo vivendo in questo periodo. Il contesto in cui si sviluppa la rivoluzione del Rojava e del nord Siria deve essere ancora una volta ricordato. Parliamo di un'area geografica dove tutti i tentativi di cambiamento e di rivolta, politici e sociali che hanno percorso quelle fratture che caratterizzano la società del Medio Oriente, partendo anche dalle proteste del 2011, sono naufragati o si sono scontrati con la repressione delle monarchie e delle cleptocrazie autoritarie dell'area. L'unico esempio che va controcorrente e che ancora resiste è la rivoluzione del Rojava e del nord della Siria. Nonostante sia stata affrontata e confrontata da due dei peggiori nemici che l'umanità ha avuto in questi anni, ovvero l'ISIS e la Turchia. Non penso in questo contesto sia necessario ripercorrere la storia dell'autodifesa, tappa per tappa, che ci ha portato a parlare oggi qui. Però penso che ci siano alcuni nomi, alcune date che siano diventate iconiche e che serva a ripronunciarle tra di noi e ricordarle tra di noi per ricordarci anche di cosa stiamo parlando. Mentre nella nostra Europa, nel nostro quieto vivere europeo, passavamo l'estate in vacanza. I compagni e le compagnie nel nord della Siria, in Rojava, instancabilmente riconquistavano dopo Kobane, Talabia, di Serecanie, Mambic, Tabca, Raka, perdevano Afri ma conquistavano Deir e Zoro, Ajin fino ad arrivare a Bagus. Sono nomi di città che sì, sono luoghi iconici a cui a me viene la pelle d'oca solo a pronunciarli. Sono luoghi che ci raccontano purtroppo di battaglie, di distruzione, di rovine, di morte, ma sono anche luoghi che vengono accompagnati in una parola molto importante che è liberazione. Liberazione è avvenuta a caro prezzo, con dei costi umani e materiali inverosimili. Oltre a una devastazione totale, testimonianza che l'esperimento della rivoluzione della Rojava non doveva essere solo combattuta e sconfitta, ma doveva essere annientata, questa riconquista, questa liberazione ha avuto dei costi umani altissimi. Migliaia e migliaia di giovani donne e uomini sono caduti per far sì che questa rivoluzione potesse fiorire e potesse continuare, che le sue istituzioni potessero avere quel via e quella libertà di poter inseminare il germe della rivoluzione in tutte le persone. Anche in questo caso credo che sia fondamentale fare dei nomi. Ci sono delle figure che sono diventate martiri, seguendo una logica medio-orientale appunto della morte e che per noi si spoglia totalmente di quel contesto religioso, cattolico del martirio. Mi vengono in mente così su dei piedi Ari Mirkan, caduta a Kobane facendosi esplodere salvando le sue compagne, Avesta Kabur, Faisal Abulaila, sono alcuni dei nomi che sono entrati in una sorta di mitologia combattente nel nord-est della Siria. Ad essi si vanno ad aggiungere però anche altri nomi, quelli di centinaia di internazionalisti che con uno spirito d'altri tempi mi verrebbe da dire, e ringrazio alcuni di coloro che sono seduti qua in platea a nome di tutti, sono scesi con uno spirito d'altri tempi a difendere quella rivoluzione e le sue istituzioni. Alcuni nomi vanno fatti, mi viene in mente sempre Ivana Hoffman, Anna Campbell e anche alcuni, Ryan Locke ucciso dai bombardamenti turchi, Jack Holmes, Saracca e tanti altri che non voglio fare una lista necrologia. Tra questi si aggiunge anche quello di Lorenzo Orsetti. Abbiamo vissuto in questo paese un momento di euforia legata alla rivoluzione del Rojava che ci ha portato a parlarne, a introdurre termini come confederalismo democratico, autodifesa, diritti delle donne, e uguaglianza, tanto prima di altri movimenti a cui noi ci approcciamo. Queste parole, questo entusiasmo è stato in qualche modo, c'è stato un tentativo da parte delle istituzioni italiane, da parte della magistratura, di condannare l'operato di alcuni dei nostri giovani, della nostra meglio gioventù che è scesa su quei territori per difendere questa rivoluzione. Io vorrei che facessimo un applauso a Maria Edgarda, che è vittima di una misura fascista e che non può essere qui con noi stasera. Mi scuso per questa interruzione un po' più lunga, ma alcuni dei giovani che compongono la nostra collettività del Festival di Sherwood, dei centri sociali, non hanno vissuto quel periodo della Stafetta di Suruccia, di tutte le iniziative che ne sono seguite, degli approfondimenti, della conoscenza profonda di quei territori, di quelle persone, di quei rapporti. Però effettivamente siamo qui per presentare un volume, e quindi io adesso vorrei chiederti Alessandro, a cui ti ringrazio per essere venuto insieme alla tua figlia Chiara qui a Padova da noi. Come nasce l'idea di scrivere questo libro e perché c'è sentita l'esigenza di raccogliere i pensieri personali di Lorenzo in un unico volume? Buonasera, vi ringrazio tutti, vi ringrazio per averci invitati, vi ringrazio voi perché siete qua a ascoltare questa storia di una persona che ha vissuto a fianco di tanti, cioè a fianco di altri amici, compagni, di ragazze, aveva un cane, lavorava, tutta una persona molto normale per tanti versi e che un giorno, stanco delle contraddizioni della nostra società, arrabbiato delle contraddizioni e delle ingiustizie della nostra società, ha deciso che la sua vita non poteva essere vissuta nella rassegnazione, nel piattume, nella routine. Ha deciso che se credeva in certe cose, voleva queste cose, voleva viverle concretamente. Due esempi, ma sono balzati alla cronaca in questi giorni, tra pochi giorni ricorderemo Genova e il massacro di vent'anni fa, Lorenzo Scera, io e lui siamo andati, il secondo giorno abbiamo vissuto quello che ora stiamo ricordando, qualcuno dice avevamo ragione e hanno provato a stroncarci. In questi giorni saranno riaperti i licenziamenti, Lorenzo viveva nel mondo del lavoro, io vengo da Firenze, la fabbrica con 420 licenziati dal fondo di investimento inglese, è frutto di questa politica e di questa classe politica legata ai padroni che porta avanti solo gli interessi dei padroni e non degli operai. Lorenzo ha vissuto queste contraddizioni, posto di lavoro dove la sera ti dicono da domani non venire più, dove ti fregano sull'orario e sullo stipendio, dove in fondo ti schiacciano perché tanto domani ne potrebbero trovare tranquillamente 10 e non c'è rispetto e non c'è dignità per i lavoratori. Lorenzo queste cose non le ha volute accettare e un giorno ha deciso che voleva trovare alternative. Si è rivolto a Rojava, questo confederismo democratico che l'ha attirato a sé come tanti altri ragazzi ma che poi lui ha scelto di vivere. E questo libro è la storia di questo percorso di quest'anno e mezzo. Dal primo post che lui ha fatto su Facebook all'ultimo, sei giorni prima di morire, racconta le sue impressioni, la sua vita. Ricordo che a noi ci è piaciuto perché non è retorica, lui non scriveva, lui non è andato là per scrivere un libro. Io l'ho sentito pochi giorni prima quando stavo per partire e gli ho detto bene, per l'ultima missione, gli ho detto guarda, rilassati insomma, hai fatto le tue missioni, cioè stai, scrivi, intervista, racconta, è importante anche questo. E lui mi ha detto no, io non sono qui per scrivere un libro, io sono qui per stare a fianco di questo popolo e questo popolo è in battaglia, io sono con loro. E ricordo che lui è morto insieme a un altro gruppo di arabi perché lui combatteva in quell'ultima missione, combatteva con Ticco che sono le aggregazioni, il partito eccetera eccetera, che mette insieme tanti arabi e tanti, anche turchi eccetera, col di turchi. E sono morti anche alcuni per recuperare il suo corpo eccetera. Quindi ci è piaciuto la mancanza di retorica con cui lui raccontava come ha vissuto per questo anno e mezzo in quella realtà. E abbiamo pensato che ricordare questa rivoluzione attraverso le sue parole fosse un gesto molto importante. Perché pensiamo che ricordare è importante, l'attenzione è importante, è importante un aiuto concreto, è importante le pressioni politiche che possono nascere poi intorno a questa cosa. Ecco, questo libro è stato fatto da degli amici, è stato curato da degli amici di Lorenzo, proprio come un gesto di amore. Ci hanno fatto un lavoro proprio di raccolta di foto, di raccolta di fonti, l'hanno seguito cronologicamente eccetera, ci hanno fatto proprio una ricerca. E ci sono solo le sue parole, ecco in questo. Proprio per evitare questo discorso un po' retorico, ecco Lorenzo si era invece innamorato di questa realtà. Quando ci sono queste realtà importanti, è vero, dobbiamo imparare veramente a stargli vicino a queste realtà. L'internazionalismo, il vecchio internazionalismo è veramente da riscoprire, non la globalizzazione che lega capitali, lega le merci capitali, ma l'internazionalismo che riuniva i popoli, perché in realtà sono i popoli vicini, penso che sia una cosa veramente da riscoprire e da sostenere. Tra l'altro ci tengo a dire che dopo l'invasione di Afrin, da uno dei racconti di Lorenzo, quando parla degli elicotteri che di notte bombardano le colline dove lui e i suoi compagni cercavano di difendersi e di contrastare l'avanzata delle milizie sciadiste, dei soldati turchi, dopo quell'episodio che leggiamo in alcuni e ci confrontammo, venne fuori che quegli elicotteri venivano prodotti da Leonardo e venivano la componentistica prodotta nelle varie fabbriche di Leonardo, tra cui una dei tessera all'aeroporto di Venezia, come centri sociali del nord-est, come Iabasta, decidemmo che andava denunciato, andava colpito chi sosteneva l'invasione ad Afrin e entrammo in tanti e tante, tagliando le reti, imbrattando, sanzionando i nemici dell'umanità, i nemici della rivoluzione. Ti faccio un'altra domanda Alessandro, siamo nel 2021 eppure leggendo questo libro a me è venuto subito in mente la lettura dei libri con le testimonianze dei nostri noni partigiani, le emozioni, i punti di vista, gli screzi, l'attesa, insomma il modo di vivere di un partigiano. E' quello che mi chiedo se ha senso a distanza di 70 anni leggere quello che sta succedendo e quello che è successo in Regiava come una guerra partigiana. Sicuramente sì, Lorenzo si sentiva profondamente un partigiano, un partigiano internazionalista antifascista, quando ne parlavamo in quei momenti del senso dell'andare così lontano che è una scelta, non è detto che sia la scelta valida per tutti, e tanti sono andati, sono rimasti per un periodo, l'hanno visto, l'hanno imparato, ma poi sono tornati a casa. Lorenzo si era veramente invece, avrà fatto questa scelta? Allora sì, Lorenzo mi diceva, io mi sento un partigiano, nel libro c'è anche una testimonianza su questa cosa, un commento, e come i partigiani, come i combattenti curdi si sentono legati alle nostre lotte partigiane, così Lorenzo da partigiano si sentiva legato al popolo dei curdi. Qui si apre poi tutto nel discorso, veramente. Allora, noi siamo un po' abituati a queste cerimonie spesso che sono dei ricordi, ma fare memoria è una cosa molto diversa. Il concetto della memoria che hanno i curdi, ma che è sportabile da questo punto di vista, fare memoria vuol dire non solo ricordare la persona, ma ricordare i valori e perché questa persona è morta, e in qualche modo impegnarsi, sentendoli anche di suonare in se stessi, impegnandoli per portarli avanti. In questo si potrebbe aprire una discussione sulla crisi dell'Ampi, che ricorda, ma che non è capace spesso di fare memoria da questo punto di vista, e quindi fa fatica a riconoscere le nuove lotte di resistenza, i nuovi combattimenti, le nuove oppressioni, e fa fatica. Detto questo, Lorenzo, prima di morire, aveva ricevuto una tessera dell'Ampi come partigiano onorario da una sezione di Firenze, che è molto impegnata sui nuovi partigiani, e riconosce i nuovi partigiani. Anche il libro di Lorenzo è stato riconosciuto per una selezione certa di libri come una testimonianza di un nuovo partigiano. Quest'anno hanno fatto il centro di documentazione di Brescia, hanno fatto due riconoscimenti, uno per i vecchi partigiani e i nuovi partigiani. Ecco, sì, ha senso. Partigiani vuol dire schierarsi contro, ma anche schierarsi a favore di qualcosa. Ed ecco, qui emerge in questo caso il confederismo democratico, ma perché raccoglie una serie di valori in cui Lorenzo credeva, la giustizia, l'uguaglianza, il rispetto, l'uomo e la donna, la possibilità di una democrazia diretta, eccetera. E soprattutto un rifiuto del fascismo e del capitalismo come mali veramente che ci stanno distruggendo. Devo dire che si fa fatica da questo punto di vista a introdurre questo modo diverso di vedere le cose, però parlarne è estremamente importante. La città di Firenze, per esempio, si è fermata molto al discorso della lotta armata, come se i partigiani, la città di Firenze fermi, l'istituzione è comune, no? Come se i partigiani non avessero imbracciato il fucile. Invece molte persone sentono che anche questo dell'imbracciare fucile a volte è una cosa estremamente necessaria. La non violenza in cui tutti auspichiamo in realtà a volte non è possibile. Non è possibile sicuramente nella Siria nel nord-est contro l'Isis e contro la Turchia e contro le bande dell'Isis, perché la guerra non è finita. Tuttora lì c'è una guerra in atto e purtroppo una guerra che frena molto lo sviluppo di questo confederalismo democratico, cioè che rende difficile realizzare e portare avanti tutta questa storia. Ricordo che questa realtà è nata una democrazia senza Stato, cioè è nata fuori da tutti i parametri che noi siamo abituati nell'Occidente, lo Stato, le amministrazioni, tutto scende dall'alto, scende verso il basso. Lì è nata da autonomie locali che si sono messe insieme. Autonomie locali vuol dire fabbrica, vuol dire paese, vuol dire condominio, vuol dire scuola, università, dove le persone indipendentemente da lingua, etnia, cultura, religione, si mettono insieme, genere, si mettono insieme e decidono che cosa fare delle loro realtà e quindi ben venga una situazione del genere, perché è l'unica secondo me soluzione che si potrebbe pensare per quei territori. Lorenzo ci si è trovato bene perché oltre a partigiano internazionalista e antifascista, lui si dichiarava anarchico e quindi credeva, ma non l'anarchia, io mi fò la mia cosina, ma dell'anarchia intesa come uno sviluppo personale per il bene della comunità e dove in una comunità arricchisce l'individuo, cioè quindi lui si sentiva lì si sentiva a casa, veramente. Abbiamo più volte nominato confederalismo democratico e i suoi principi. Io ti vorrei chiedere, secondo te, tra i pilastri, tra virgolette, della rivoluzione del Rojava e del confederalismo democratico, tra cui l'autodifesa, il diritto alle donne, l'uguaglianza. Qual era il pilastro di Lorenzo a cui lui teneva di più? Allora, secondo me il pilastro per cui credeva di più Lorenzo era quella che è chiamata ecologia globale, ecologia sociale, cioè il fatto che ci fosse una condizione di rispetto e di parità, uomo verso uomo, uomo verso donna, uomo verso creato, eccetera, che è un po' diverso dal concetto dell'ecologia che noi tendiamo a pensare, quindi è qualcosa di più, che si basa più sul tema delle relazioni e sulla possibilità di costruire insieme certe cose. Lorenzo è stato molto critico, era molto critico, se ne legge molte pagine, rispetto all'individualismo dell'Occidente, in cui veramente l'altro diventa solo un tramite per il mio successo e per il mio futuro, qualcuno da sfruttare da... insomma. E quindi sappiamo tutti queste cose, eccetera. Purtroppo, insomma, quindi questa visione concettuale, eccetera, secondo me è una parte molto importante. Lì c'era, come dice una frase, c'era un posto dove persone normali possono fare cose eccezionali e viceversa, cioè, nel senso, le cose che vengono fatte rendono le persone eccezionali, ecco. Ricordo che c'è morto circa 17.000 kurdi, molte uomini e donne, perché li combattono ambedue, e quindi anche questa è una cosa veramente eccezionale. Purtroppo, per riallacciarmi al tema di Eddie, come tu dicevi, di anzi, la nostra società non ama queste situazioni. C'è un incontro tra il capitale e i poteri che rendono impossibile, difficile, un accoglimento di proteste, eccetera. Condannandole poi a dover alzare la voce per farsi sentire. Oggigiorno viviamo in una società dove i decreti di sicurezza, Salvini, eccetera, eccetera, e il riattivarsi della sorveglianza speciale. Eddie ci ha fatto vedere il librettino, no? Quando si era a Bologna. Cioè, lei non può uscire, c'è scritto tutta una serie di cose nella prima pagina, lei non può uscire dalle 21 alle 7 di mattina, non può guidare una macchina, non può partecipare a manifestazioni, eccetera, non può, poi che c'è, deve frequentare solo persone che, di specchiata onestà, cioè quindi tutte le persone condannate per vari motivi, non le può frequentare, non può scrivere, non può, cioè, una cosa che, in nome di una presunzione, non di una condanna, ma di una presunzione di responsabilità. Purtroppo questa sorveglianza speciale la stanno applicando anche altri contesti, così come i decreti di sicurezza che noi tutti hanno detto che finalmente c'è una situazione, ci aiuteranno per quelli cattivi. Gli operai che vanno a manifestare, fermano il traffico, si vedono arrivare multe, i giovani vogliono protestare. L'altro giorno a Firenze una marea di giovani hanno protestato per il blocco a Piazza Santo Spirito a Firenze, perché non si può entrare nelle piazze, tutto una cosa alluscinante, in nome del spazio al turismo e ai locali, si sono visti arrivare a casa multe, perché la polizia inquadra e poi riconosce e manda a casa multe altissime, o quando non ci sono condanne, proprio processi condanne. Quindi in questo tritacarne, chiunque tira fuori di idee diverse e proposte diverse rischia effettivamente come di essere ripreso e contestato e condannato. Uno dei principi che ho sempre ammirato dei popoli del nord della Siria, dei kurdi, è stato quello di non limitarsi solo a quello che stanno facendo in quel momento. Durante l'assedio di Cobane, mi ricordo che già pensavano come ricostruire le loro case che venivano bombardate in quel momento, in mesi successivi pensavano già come le istituzioni rivoluzionari potessero fiorire e espandersi. Questo spirito di non arrendersi mai, neanche davanti al peggior nemico del mondo, che secondo me è stato l'ISIS per lungo tempo, con le sue pratiche, con le sue idee, con i suoi lavaggi del cervello, insomma, mi dà speranza. Mi dà speranza nel pensare che c'è qualcuno al mondo che guarda oltre al suo proprio naso. Secondo me anche la vostra idea del progetto dietro al libro è su questa lunghezza d'onda. Ci potresti spiegare il progetto alle spalle del... Anche a me dà molta speranza il popolo kurdo. Nei campi dove sono sfollati la vita segue l'idea del confederalismo democratico. Non è che si pongono e dicono vabbè aspetta, noi siamo qui nelle tende, quando andremo, quando no. Si riorganizzano, secondo questa logica. Io ho sentito veramente forte questa carica che hanno di portare avanti questi valori e queste idee. Secondo me proprio sono pergnati. Non è solo un popolo senza terra, senza Stato, senza cultura, eccetera. Ma è un popolo che ha fatto di questa loro oppressione. In questo momento ne ha fatto tesoro per poter fare una proposta. Quindi secondo me sono usciti da certi parametri, da certe cose per proporre qualcosa di nuovo. Cioè tra il capitalismo e anche un marxismo, leninismo, insomma hanno cercato di trovare una terza via. che veramente secondo me è molto interessante e avrebbe molto da dire a chi la vuole studiare e se ne vuole conoscere meglio. Sarebbero tanti gli episodi che potrei raccontare che hanno anche modificato la vita di Lorenzo. Io ne racconto solo uno, scusate, perché a me ha colpito molto. Dicei che i primi periodi Lorenzo è partito in un'esercitazione con un gruppettino. Naturalmente erano semplicemente dietro le linee e dovevano fare una mappa di posizioni, ma kurde, cioè della serie. Che poi usiamo la parola kurdi, ma in realtà lì ci sono tanti altri popoli. E praticamente Lorenzo dopo un po' ha perso il gruppettino, ha perso, si è staccato dal gruppetto, ha fatto una bellissima cartina, ha ritornato il giorno dopo una bellissima cartina. E gli hanno spiegato che non andava bene, perché si parte insieme e si torna insieme. E che lui aveva fatto una bellissima cartina, ma aveva abbandonato il suo gruppo di amici. Cioè questa idea di gruppo, di popolo, di comunità, che li pernia, li fa sentire uno o l'altro vicino. Veramente è la ricchezza che hanno in questo popolo. Lorenzo se ne ricorderà, perché quando moriranno, lo racconta nel libro, quando morirà la persona uccisa, eccetera, eccetera, ci sono delle pagine in cui racconta la fatica per riportare dietro il corpo di questo morto. e con tutto il sangue e la sofferenza, la fatica di questa cosa. Ma, dice, sapendo che i miei compagni, eccetera, meritava questo corpo essere riportato dietro le linee alla propria famiglia. Detto questo, il progetto, ho detto prima che parlarne come stasera è importante, che fare pressioni politiche, eccetera, è sempre più faticoso in questo momento, ma sarebbe importante, perché l'Italia si schieri per bloccare la vendita delle armi, per bloccare i collegamenti diplomatici, per un embargo, per bloccare, insomma, tutte le solite cose che sono molto veloci a fare per Cuba o per altre realtà, ma per la Turchia non hanno fatto e per altre realtà non hanno fatto. Detto questo, abbiamo pensato che la terza mossa fosse quella di aiutarli concretamente. Siccome abbiamo trovato un gruppo di artisti, 23 artisti, hanno fatto un CD così bello per Lorenzo, con canzoni ispirate a Lorenzo, alla storia e alla vicenda di Lorenzo, e ci hanno chiesto, è stato fatto, e poi hanno detto, beh, che ne facciamo? Dei soldi, e allora noi abbiamo chiesto proprio, abbiamo chiesto a Wiki, abbiamo chiesto a loro, di che cosa avete bisogno? Abbiamo scelto un progetto sanitario, perché Lorenzo era molto preoccupato per i bambini, tu ci parlava tanto dei bambini, degli orfani, e abbiamo scoperto che a Cobane c'è un orfanotrofio, e c'è un progetto Alan Rainbow, e ci sono un gruppo di 150 bambini, 200 bambini, e purtroppo la guerra aumenta e sono sempre in movimento questi numeri, e gli mancava un ambulatorio pediatrico, eccetera. E noi abbiamo deciso di devolvere prima i soldi del CD, che arrivava via via del CD, a questo progetto, cioè noi rimandiamo a questa associazione lì, in Rojava, loro ci fanno le foto, ci rimandano, ci mandano via via quanto, come hanno fatto, cosa hanno fatto, e poi abbiamo deciso che anche i soldi del libro andassero in quel progetto, erano inutili a fare due progetti, e quindi anche i soldi del libro, dei dati e spese di stampa per quelli lì, vanno lì, eccetera. Pensiamo che sia anche un modo concreto di essere vicino a questi popoli, no? Cioè, i bisogni è tanto, ci dicevano che per il problema del Covid hanno faticato tantissimo, perché non aveva ventilatori, non aveva mascherine, eccetera. Hanno un problema dell'acqua, hanno un problema per le medicine, perché poi c'è un embargo per quei territori, Cioè, la Turchia ha bloccato, ha fatto un muro sul confine, gli altri popoli, passa tutto con grande fatica, contrabbando, rinascosto, eccetera. Noi abbiamo mandato un ventilatore, cioè, no, un ecografo portatile per un ambulatorio, e sta una fatica mostruosa, cioè, però non abbandoniamo le cose. Ci sarebbe un quarto modo per aiutarli, quello di cominciare anche noi a sperimentare certe istanze che loro stanno portando avanti, cominciando a applicarle nella nostra società e provarle. Il ruolo uomo-donna, la nostra democrazia, se fare una democrazia diventi reale, un nostro rapporto diverso con il creato e col mondo, insomma, bisogna cominciare anche noi un po' a fare meno parole e filosofie e cominciare nei fatti, nella vita concreta, a mettere in pratica alcune di queste idee. Mi stavo dimenticando, il primo che ci detto una mano fu Zero Calcare, perché oltre a ricordare la cosa, eccetera, fece un fumetto che fu l'inserto di Internazionale, che si chiamava Macelli, e che proprio raccontava la storia di Lorenzo, che è l'inserto della nuova edizione, cioè la parte finale della nuova edizione di Cobane Colling, che veramente io ringrazierò sempre, perché è una capacità di entrare, oltre ad essere un artista divertente, eccetera, ha una capacità anche di cogliere il senso di certe situazioni, e poi è vicinissimo alla lotta di cui, di là lo sapete, tutt'ora, ecco, mi stavo dimenticando dell'Orecchio Zero. Come non essere d'accordo con quanto è appena detto, ci sono, io lo voglio ricordare, perché sembra quasi scontato, dopo tanti anni, che non ne parliamo, quello che avviene nel nord-est della Siria, Nerojava, nella federazione del nord-est della Siria, avviene in un contesto di guerra continua, totale, anche un semplice laboratorio, ambulatorio pediatrico, è una vera conquista, la Turchia, da anni, ha chiuso il confine, i fratelli kurdi dell'Iraq, vivono sotto disposizioni turche, dall'altra parte, c'è il regime di Assad, che fino all'altro ieri, e tuttora, non è proprio un amico, e ne l'ho mai stato, probabilmente, quindi, sviluppare, quelle idee di questa potenza, e metterle in atto, e portarle avanti per tanti anni, in un clima del genere, senza dimenticarci, quella cosa che si chiama ISIS, che non è stata una cosa, proprio una meteora passeggera, veramente deve darci morale, secondo me deve darci morale, per quello che facciamo tutti i giorni, per le nostre lotte, quello che facciamo con i nostri corpi, giornalmente, perché se ci riescono loro, in quel contesto lì, figuriamoci noi che abbiamo tutto quello che possiamo avere qui. Io non ho altre domande, Alessandro, e ti vorrei ringraziare, personalmente, come Marco, e come Ia Basta, per essere venuto qui con noi, a presentare questo libro, che vi ricordo potete trovare, nel banchetto di Ia Basta, alla vostra destra, per sostenere il progetto, dell'ambulatorio pediatrico, e ringrazio tutti voi, per aver avuto, la pazienza, di ascoltarci, e la voglia di essere qui, a Sherwood Festival, nonostante il clima. Grazie, veramente, sono emozionato. Grazie. Grazie. Grazie.